Per l'Italia non arrivano buone notizie dalla fronte economia. Secondo i dati diffusi dall'Istat, l'indice dei prezzi ad agosto è in calo del meno 0,1% rispetto al 2013. La disoccupazione a luglio è del 12,6% per i giovani più 42,9% e infine il PIL meno 0,2%. Per il leader di Covindustria Squinzi serve un progetto serio di rilancio. Un ministro economico parla di colpo di coda della crisi, mentre i consumatori definiscono il tutto un quadro sconcertante con danno ai cittadini.